Lo Stadio del Mare di Pescara ospiterà sabato 20 luglio la Notte dei Serpenti, l'evento musicale ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese. Sul palco, anche quest'anno, grandi nomi della musica italiana insieme a tanti artisti e musicisti abruzzesi, accompagnati dall'Orchestra dei Serpenti. Lo scorso anno l'evento ha richiamato più di 10.000 spettatori. Stamani, in prefettura a Pescara, si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza preseduto dal prefetto, Flavio Ferdani, per definire tutti i dettagli. Quest'anno, visto il grande successo dell'anno scorso, la RAI ha deciso di mandare l'iniziativa, la manifestazione, in prima serata, il 23 agosto, quindi l'organizzazione è ben più complessa. Per questo abbiamo chiesto l'intervento del prefetto, in modo tale che possa coordinare tutte le attività legate alla logistica. Credo che il discorso della viabilità sarà impostato come è già stato effettuato durante la manifestazione di RDS, che ha riscosso grande successo ed è stata anche una manifestazione che non ha creato problemi alla città in generale per la viabilità. Poi ci muoveremo per far sì che lo spettacolo sia entusiasmante, che sia uno spettacolo bellissimo e che Pescara possa dare il meglio di sé per apparire in tutta Italia e fuori dall'Italia come una città che è effervescente, dinamica, brillante, sprint, perché Pescara è questa. Il maestro Melozzi riesce a coinvolgere tantissimi amici, tantissimi artisti di spessore per promuovere culturalmente anche le tradizioni musicali abruzzesi. Sì, perché noi vogliamo che questo discorso turistico che si sta espandendo sempre di più in Abruzzo possa avere radici ben piantate sul nostro territorio, con le nostre tradizioni, con la nostra cultura, con la nostra storia e Pescara che è la città più moderna d'Abruzzo ma è anche la vetrina dell'Abruzzo possa mostrare il meglio delle tradizioni abruzzese, della storia abruzzese e della musica abruzzese perché qui parliamo di musica e gli arrangiamenti con artisti di livello nazionale e internazionale delle nostre canzoni in dialetto è la cosa certamente che ci entusiasma di più. Lo Stadio del Mare accoglierà questo evento, un evento lo ricordiamo e lo sottolineiamo gratuito. Sì, gratuito, ci sarà il 20 luglio, ricordiamo che lo spettacolo andrà in prima serata Rai e non era mai successo che Pescara avesse uno spettacolo tutto abruzzese, tutto pescarese in prima serata Rai, anche questo succederà.